Noi siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal fatto che tutti i progetti che noi abbiamo presentato sono stati finanziati. Ora c'è da correre, c'è da correre. Io ribadisco che l'ho detto da sempre. Mi auguro davvero che il governo ci aiuti a rendere ancora più semplice la fase burocratica dei nostri percorsi amministrativi perché, insomma, con una mole di soldi così l'unico peccato che non possiamo permetterci è quello di non spendergli. La burocrazia è tanta, è complicata. Siamo già nel 2022 e avere i progetti definiti e rendi contato al 31-12-2026 è una sfida enorme che noi facciamo volentieri e che lasceremo, fra l'altro, anche all'amministrazione successiva, ma c'è davvero da correre. Quindi, diciamo, al governo io ribadisco quello che sto dicendo da mesi. Metteteci le condizioni sia dal punto di vista delle assunzioni sia dal punto di vista soprattutto delle pratiche di essere più rapidi, più veloci, altrimenti un po' di rischio c'è.